Oggi si parte dal salario minimo. Che si intende per salario minimo e perché è così discusso a livello nazionale e a livello europeo? Il salario minimo è un concetto che rinveniamo sia in ambito internazionale che in ambito nazionale. Rinveniamo una definizione nell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, rinveniamo una definizione nell'ambito dell'Unione Europea e chiaramente rinveniamo una definizione anche nell'articolo 36 della nostra Costituzione. Queste definizioni, come è facile immaginare, gravitano tutte intorno al concetto di proporzionalità tra il lavoro prestato e la retribuzione che deve essere corrisposta al lavoratore. Il nostro ordinamento, che è un ordinamento molto particolare e attento alle tematiche del lavoro, introduce anche un concetto ulteriore rispetto a quello di retribuzione perché dice che non deve contare solo la quantità e la qualità del lavoro ma è importante garantire al lavoratore un'esistenza dignitosa e libera. Qua si parla anche di un criterio costituzionalmente riconosciuto, sottolineamolo perché il lavoro è caposaldo della Costituzione, così come la retribuzione del lavoro. Diciamo che l'attualità di questa visione costituzionalmente orientata è diventata negli ultimi tempi di grande attualità, proprio ad ottobre con l'intervento della Cassazione. Diciamo che il tema è stato compulsato anche dall'Unione Europea che si è proprio riproposta l'obiettivo di adeguare i salari minimi nei diversi paesi andando a promuovere la contrattazione collettiva. Questo perché? Perché l'Unione Europea chiaramente per statuto non può intervenire in tema di retribuzione nei singoli stati membri. Nell'ambito dell'Unione Europea c'è una divisione tra paesi che hanno introdotto un obbligo minimo con una legge e paesi che individuano invece questo livello minimo di retribuzione demandandolo alla contrattazione collettiva, che è il nostro caso. Cosa ha fatto la Cassazione e in che cosa è innovativa da questo punto di vista? La Cassazione dice una cosa molto importante. Il rinvio al contratto collettivo da parte del contratto individuale del lavoratore non è sufficiente a decretare l'adeguatezza del salario stabilito. è un indice che ci fa presumere che quel salario possa essere ritenuto adeguato. Ma questo indice, questa presunzione di conformità poi non può prescindere da un giudizio concreto da fare sul campo. Quindi dal verificare se il salario effettivamente percepito garantisce e consente al lavoratore di avere quella che è un'esistenza degnitosa e libera. Quello che è accaduto e quello che ha fatto sì che diventasse più urgente e coggente tanto per l'Unione Europea quanto per i nostri giudici della Suprema Corte è stata l'inflazione che si è registrata subito dopo la pandemia. Inflazione che ha determinato un aumento del costo del denaro e della vita tale per cui alcune paghe base stabilite in contratte collettivi di alcune categorie di lavoratori, nel caso di specie parliamo dei operatori della vigilanza erano talmente tanto basse che chiaramente erano addirittura in parte al di sotto del reddito di cittadinanza. Questi giudizi nascevano dal ricorso presentato da alcuni lavoratori nell'ambito della vigilanza, quindi che facevano riferimento al contratto collettivo istituti di vigilanza che avevano lamentato una inadeguatezza del salario percepito rispetto a un livello dignitoso della propria esistenza proprio così come recita l'articolo 36 della Costituzione. Grazie a tutti.